One minute alone, il contest dove hai solo un minuto per far vedere quanto vali. Papa, hai detto solo un minuto? Sì tesoro, solo un minuto. Tra tutte le proposte, solo uno sarà il vincitore. Scaricate il brano in sovraimpressione e ricordate... Avete solo un minuto, bastardi. E se veramente vi è dato partecipare a One Minute Alone, se fai uso comune delle espressioni gang, eschere o la tua tipa. È inoltre proibito emettere suoni come scu e partecipare con problemi di metrica tipo che rappi solo con questo modo di fare. Un minuto, un minuto. Yeah, that was fresh.